bene amici di telefono.net video a 1080p da lumia 820 il fratello milione del 920 ha più o meno le stesse caratteristiche stiamo facendo questo video appunto 1080p zoom che è possibile settare solamente in fase di pre registrazione quando inizia a registrare non si può più settare qua il nostro classico controluce torniamo a valore di illuminazione normali forse un pochino lento nella messa a fuoco continua ripeto un video che stiamo girando dal lumia 820 a 1080p